Facciamo la doppietta, dopo un Apollo GT nuova, adesso siamo su un Fiesta ST MK8 Sto motore quando uno ti dice che ha un 1.5 tre cilindri non ci crede nessuno Io non ce la faccio ancora adesso a crederci Ragazzi è spettacolare sta macchina, veramente È andata proprio bene perché speravo di beccare una Fiesta ST Quindi ci guadiamo anche questa macchinina Bella, 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 ignorante Ecco dopo l'Apollo di prima che era troppo filtrata Questa è una macchina ancora ignorante, non c'è niente da fare